Ha detto che se grande drago segue consiglio del piccolo tigrotto, scopriranno la verità. Dì all'onorevole che il dragone ha già seguito una volta il consiglio della puzzola e ci è rimasto fregato. Onorevoli... Non ho capito. Dice che il vescovo ha ragione. Beh, io vado a consigliare il dragone.